La nome e lo Spirito Santo, viene a noi Maria, con l'accesso riso di Gesù. Viene a noi Maria, sulle l'alto della Spirito Santo, viene a noi Maria, con l'accesso riso di Gesù. Viene a noi Maria, sulle l'alto della Spirito Santo, viene a noi Maria, con l'accesso riso di Gesù. Viene a noi Maria, sulle l'alto della Spirito Santo, viene a noi Maria, con l'accesso riso di Gesù. Viene a noi Maria, sulle l'alto della Spirito Santo, viene a noi Maria, sulle l'alto della Spirito Santo, viene a noi Maria, con l'accesso riso di Gesù. Viene a noi Maria, sulle l'alto della Spirito Santo, viene a noi Maria, con l'accesso riso di Gesù. Viene a noi Maria, sulle l'alto della Spirito Santo, viene a noi Maria, con l'accesso riso di Gesù. Viene a noi Maria, sulle l'alto della Spirito Santo, viene a noi Maria, con l'accesso riso di Gesù. Viene a noi Maria, sulle l'alto della Spirito Santo, viene a noi Maria, sulle l'alto della Spirito Santo, Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Madonna dei miracoli di Cannago, che per il mondo è intero, San Giuseppe, patrono della Chiesa Universale, Ci lasciamo condurre e guidare nella preghiera, portando al cuore di Maria le nostre intenzioni, in modo particolare per i sofferenti, per le persone nell'ora della prova, della desolazione, della tristezza, dell'angoscia e della solitudine, per essere accarezzati, perché possiamo sentirci rivolti allo sguardo del Figlio, al volto di Gesù, glorioso, in questo tempo di Pasqua. Nel primo mistero contempliamo l'immacolata concezione di Maria. Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth. La Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse, rallegrati, piena di grazia. Il Signore è con te. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome. Venga al tuo Regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Grazie oggi il nostro pane quotidiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci la tentazione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dodato sempre sia il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù mio, perdona le nostre colte. riservaci dal cuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le animi, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madonna dei miracoli di Carnago, prega per noi e per il mondo intero. San Giuseppe, patrono della Chiesa Universale, ricordati anche di noi. San Giuseppe, patrono della Chiesa Universale, ricordati anche di noi. era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. E il Verbo si fece caldo, e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio di Genito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Padre Bosto, che sei nel cielo, che stai affidati in tuo nome. Venna al tuo reto, sia fatta la tua colta come il cielo così in terra. Danna, ci chiedi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci dalla tentazione, ma liberarci dal male. Amè. Ave Maria, piena di grazia, Sottore con te, tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amè. Ave Maria, piena di grazia, Sottore con te, tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amè. Ave Maria, piena di grazia, Sottore con te, tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amè. Ave Maria, piena di grazia, Sottore con te, tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amè. Ave Maria, piena di grazia, Sottore con te, tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amè. Ave Maria, piena di grazia, Sottore con te, tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amè. Ave Maria, piena di grazia, Sottore con te, tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amè. Ave Maria, piena di grazia, Sottore con te, tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amè. Ave Maria, piena di grazia, Sottore con te, tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amè. Ave Maria, piena di grazia, Sottore con te, tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amè. Seguo la mio Padre, figlio e spirito santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amè. Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria, oh Gesù mio, perdone le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madonna dei miracoli, prega per noi e per il mondo intero, San Giuseppe e padrono della Chiesa universale, ricordati anche di noi. Nel terzo mistero contempliamo la passione di Gesù. Gesù disse, adesso l'anima mia è inturbata. Che cosa dirò? Padre, salvovi da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo. L'ho glorificato e lo glorificherò ancora. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amén. Ave Maria, oh Gesù mio, perdone le nostre colpe, tu sei benedetta per la donna, benedetta per il tuo seno, Gesù. Santa Maria, oh Gesù mio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, oh Gesù mio, perdone le nostre colpe, tu sei benedetta per la donna, benedetta per il tuo seno, Gesù. Santa Maria, oh Gesù mio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, oh Gesù mio, perdone le nostre colpe, tu sei benedetta per la donna, benedetta per il tuo seno, Gesù. Santa Maria, oh Gesù mio, prega per la donna, benedetta per la donna, benedetta per il tuo seno, Gesù. Santa Maria, oh Gesù mio, prega per la donna, benedetta per la donna, benedetta per il tuo seno, Gesù. Santa Maria, oh Gesù mio, prega per la donna, benedetta per la donna, benedetta per la donna, benedetta per il tuo seno, Gesù. Santa Maria, oh Gesù mio, prega per la donna, benedetta per la donna, benedetta per il tuo seno, Gesù. Santa Maria, oh Gesù mio, prega per la donna, benedetta 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 per la don Maria, piena di grazia, il Signore di amore, tu sei benedetta a fare notte, benedetta in tutto il tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego, inferno e perpetuori, ma esso è il tuo cuore della nostra morte. Amen. Maria, piena di grazia, il Signore di amore, tu sei benedetta a fare notte, benedetta in tutto il tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego, inferno e pecatori, ma esso è il tuo cuore della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria, le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le mani, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Madre di Dio, prega per noi e per il mondo intero, San Giuseppe e la tromba della Chiesa universale, ricordati anche di noi. Nel quarto mistero si contempla la morte in croce di Gesù. Disse allora Gesù, quando avrete alzato il figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono, e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venghi al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro panni quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave o Maria, viena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, viena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, viena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, viena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, viena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, viena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, viena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, viena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, viena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lo dato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le animi, le più bisognose della tua misericordia. Madonna dei miracoli di Cardano, prega per noi e per il mondo intero. San Giuseppe, patrono della Chiesa Universale, ricordati anche di noi. In maniera, sulle mani dello Spirito Santo, vieni a noi, Maria, portaci in sorriso di Gesù. Nel quinto mistero contempliamo la risurrezione di Gesù. Venne Gesù a porte chiuse. Stette in mezzo e disse, Pace a voi. Poi disse a Tommaso, Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. E non essere creduto, ma credente. Gli rispose Tommaso, Mio Signore e mio Dio. Padre nostro, che stelle in cielo, si è santificato al tuo nome. Venga il Torello, che sia fatta la tua volontà, come in cielo e così. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Grazie. Grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta, bravo e donna, e benedetto, e tutto il tuo sé, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, preda la vita e la vita e la vita. Adesso e l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo Seguro. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo Seguro, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo Seguro, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo Seguro, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo Seguro, Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo Seguro, Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo Seguro, Gesù. Le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in Cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della Tua misericordia. Madonna dei miracoli di percato, pregati a noi e per il mondo intero, ricordati anche di noi. San Alem bologna di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è un frutto del Tuo Seguro, Gesù. Grazie a tutti. 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 E' così la vita migliore, è così la vita vera. Grazie a tutti. 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 Padre al Figlio e allo Spirito Santo. Era il principio, ora e sempre. Padre al Figlio e allo Spirito Santo. 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 tutto in comunità. Padre al Figlio e allo Spirito Santo. Padre al Figlio e allo Spirito Santo. Padre al Figlio e allo Spirito Santo. Padre al Figlio e allo Spirito. Padre al Figlio e allo Spirito Santo. Padre al Figlio e allo Spirito Santo. Padre и allo Spirito Santo. Padre al Figlio e allo Spirito Santo. Uguali Spirito Santo. Padre al Figlio e allo Spirito Santo. Pasquale. Ci sentiamo careggianti sulla preghiera in questo momento, Signore, ci supporto e ci do l'amore. Non c'è più di testa in questa preghiera, magari c'è l'olio dentro il nostro cuore. Una volta santa, una volta con te. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 tu. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. grazie a tutti. 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 a tutti.